E lui cantò, hanno messo un gobbo nel quale avevano scritto l'inglese in inglese, la cui pronuncia diventava italiano. Quindi facevano così, però era Armstrong, poi ha fatto il solo alla tromba. Dopo la fine della canzone, grandi applausi, incominciano Wendelsens comacilin e quello parte per fare Wendelsens comacilin, dicendo io adesso faccio il concerto. Ravera, l'organizzatore, dice fallo smettere, ma come lo faccio a smettere? E mi spingono, il mio primo festia, pensate, ero un poveraccio io davanti a questa situazione, io sono uscito, sono uscito con un fazzoletto, sai che lui usava il piante fazzoletto e si asciugava la fronte. Gli ho asciugato la fronte e gli ho detto stop Mr. Armstrong, stop Mr. Armstrong, bye bye, assiudere. E gli hai tolto la tromba? La vergogna, guarda, è una vergogna.